Svegliarsi con lei che mi osserva Beh, mi sembra un sacrificio accettabile Perché dice quasi? Non sono andati fino in fondo Per usare un'analogia abbastanza frusta, la corruzione non è diversa dal cancro Rimuovi i tumori, ma se non riesci a curare l'origine, beh, al massimo guadagni tempo Non c'è un vero cambiamento senza un intervento completo e sistemico Chimica per le masse Educazione, rieducazione per essere precisi Ma non è facile E non sempre funziona Mi faccio indovinare Avete una soluzione migliore Qual è allora? Non vorrà che glielo dica Non vorrà che glielo dica La preparazione è decisiva per il successo Libera la zona Sono... vivo Ma vi ho visto colpirmi La morte mi ha preso Hai visto ciò che ho voluto che tu vedessi E poi sei entrato nel sonno della morte Del greppo Così da risvegliarti Per rinascere Per rinascere A quale fine? E purtroppo questo si vede Sei arrogante e presuntuoso Non siete stato voi a dire che niente è reale e che tutto è lecito Non comprendi il reale significato di questa frase, figliuolo Essa non garantisce la libertà di fare come ti aggrada È una nozione che deve guidare i tuoi sensi Presuppone una saccezza di cui chiaramente difetti Allora che ne sarà di me? Dovrei ucciderti per le pene che ci hai causato Malik crede che sia giusto La tua vita è in cambio di quella di suo fratello Ma sarebbe uno spreco del mio tempo e del tuo talento Vedrai che sei stato privato dei tuoi averi Oltre che del rango Sei tornato un novizio Un bambino Come eri il giorno in cui ti sei unito al nostro ordine Ti sto offrendo l'occasione di redimerti Dovrai meritarti il rientro nella confraternita Presumo che abbiate in mente qualcosa? Prima devi dimostrarmi che ti ricordi di come essere un assassino Un vero assassino Volete che uccida qualcuno? No, non ancora almeno Per il momento ritornerai a fare l'allievo Non ce n'è bisogno Sono un priore Eri un priore Altri rintracciavano le vittime per te Ma ora non più Oggi dovrai trovartele da solo Se questo è il vostro volere Lo è Allora ditemi che cosa devo fare Sono stato tradito Qualcuno stava aiutando Roberto di Sable Uno dei nostri Scopri dov'è e conducilo qui perché possa interrogarlo Cosa potete dirmi del traditore? Ah ma questo è quanto Ti ho già detto tutto Il resto sta a te Il resto è stato tradito Salute e pace, Altair Mi sbarri il passo Sì, Al-Mualim mi ha chiesto di aiutarti Di ricordarti come si caccia una preda So come si fa Comunque sia, non intendo disobbedire E allora sbrigati Gli Ashishun hanno molti strumenti a disposizione Sì, sì, possiamo rigliare, borseggiare O usare la violenza per intimidire Bravo, te ne ricordi Così vuoi che mi aggiri in mezzo agli altri e acquisisca informazioni sul traditore? Sì, inizia il mercato del villaggio È lì che l'abbiamo notato la prima volta Tu sai chi è? Forse Allora dimmi quel nome e facciamola finita Non è così che funziona Ora vai, e ricorda Inizia dal mercato del villaggio A quanto pare va di freddo Sembra che qualcuno lo stia insegnando Che niente Farebbe meglio non creare problemi A quanto pare va di freddo Ma cosa fugge quell'idioto? Che stupido 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 So ciò che ho visto Masun ha aperto la porta Ha fatto entrare i Templari Allora devi dirlo ad Al-Mualim Non posso Masun non agiva da solo L'ha aiutato qualcuno dentro la fortezza Che cosa te lo fa credere? Uno scambio di lettere tra lui e qualcuno all'interno Gliele recapitava il canestraio Questo non è un motivo per tacere Ma il canestraio gli ha consegnato una lettera appena prima dell'attacco Sospetto che recasse l'ordine di aprire la porta Parla col canestraio Può dirci il nome del complice di Masun È scomparso Si nasconde per timore di essere coinvolto Ah Probabile che sia dentro una delle sue ceste Ma che strano Devevano esserci fatti male Cosa gli passa per la testa? Può dirci il sistema Per favore, una sola Abbiamo perso tutto nell'attacco E non abbiamo dove conservare il grano Ora non posso, sono occupato Riguarda la lettera? Quale lettera? La lettera che hai ricevuto quando sono arrivata Brutte notizie? Non so di che cosa parli Ascolta, vedrò cosa posso fare Ma adesso devo restare solo, torna più tardi Come vuoi Ma dove farà adesso? Dove farà l'altro? Per questo i vostri occhi saranno aperti alla verità Ci troviamo sulla sogna Tra questo mondo E un mondo nuovo Un posto migliore Dove potremo vivere tutti da pari Ma quelli come Al Mualim Vogliono vedere distrutto questo sogno Vedo come mi guardate Sento ciò che dite Un traditore? Non sono io il traditore È Al Mualim che ci ha ingannato Vedo come mi guardate Sento ciò che dite Un traditore? Non sono io il traditore È Al Mualim che ci ha ingannato L'attacco di oggi non è stato che il primo E altri ne seguiranno se non vi pentite Abbandonate i costumi corrotti Ribellatevi contro il folle di Masyav Smascherate le sue menzogne Scusate le sue menzogne Scusate le sue menzogne Basta, mi arrendo, mi arrendo Parla in fretta dunque, non mi interessano i tuoi giochetti Perché ci hai tradito? E di chi sei al servizio? Noi servivamo i Templari, anche tu dovresti, la loro causa è giusta Noi? C'è un Ale chiamato Jamal, mi ha detto dei loro piani, mi ha chiesto di aprire la porta Ci hai tradito, noi che ti chiamavamo fratello e ti abbiamo protetto Ho fatto ciò che credevo giusto E se per questo devi uccidermi, che sia? Non ho paura di morire Non sta a me decidere del tuo destino, sarà Almuolim a giudicare Avanzamento rapido, un ricordo più recente Sei accusato di aver tradito la confraternita, aprendo la strada ai nostri nemici Come rispondi a queste accuse? Non nego nulla, sono fiero di ciò che ho fatto Mi spiace soltanto che abbiano fallito Ti offro l'occasione di pentirti, di rinunciare al male che hai nel cuore Nel mio cuore non c'è il male, ma... la verità Io non mi pento Allora morirai Hai agito bene, Altair E hai riottenuto il diritto di portare la spada Che ne sarà di colui che lo ha aiutato? Resta da vedere Alcuni fanno del male per ignoranza o paura Costoro si possono salvare Altri sono soggetti a desideri corrotti La loro mente è avvelenata e distorta Costoro devono essere annientati Presto sapremo che tipo di uomo è Jamal Ho superato la prova, dunque E adesso? Oh, figliuolo Abbiamo appena cominciato Ho qui un elenco Formato da nove nomi Nove uomini che devono morire Sono degli appestatori Dei guerra fondai Il loro potere e la loro influenza contaminano la terra E assicurano la continuazione delle crociate Tu li troverai Li ucciderai Così facendo spargerai i semi della pace Sia per la regione Sia per te stesso In questo modo potresti redimerti Nove vite in cambio della mia Un'offerta assai generosa, credo Hai qualche domanda? Solo dove devo iniziare Molto bene Recati a Damasco Cerca un trafficante del mercato nero di nome Tamir Egli sia il primo a cadere Visita la dimora degli assassini Una volta in città Invierò un colombo per informare il rafficca del tuo arrivo Parla con lui Scoprirai che ha molto da offrire Se lo ritenete opportuno? Sì Tra l'altro non puoi iniziare la missione senza il suo assenso Che assurdità è questa? Non mi serve il suo permesso È uno spreco di tempo È il prezzo che devi pagare per i tuoi errori Come novizio Ora non devi rispondere solo a me Ma a tutta la confraternita Ebbene sia Prendi la tua roba e vai Dimostra che sei ancora uno di noi Ma a tutta la confraternita Altair Pare che i miei allievi non comprendano bene come maneggiare una spada Potresti dar loro una dimostrazione? Alla prossima Avrai da fare Capisco Avrai da fare Capisco Mi vuole tempo per estrarre un altro pugnale Cercate di far sì che il primo attacco sia anche l'ultimo Capisco 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 Grazie a tutti. Usa i pugnali da lancio per colpire nemici distanti.